Il sindaco di Barretta Mino Cannito sulla nomina dei due assessori necessari al completamento della sua giunta sarebbe alla stretta finale almeno sui nomi, mentre sugli equilibri politici la cosa sarebbe ancora tutta da verificare. I due nuovi assessori sarebbero l'architetto Gambarrota dai diversificati trascorsi politici indicato dal duo D'Amato Marzocca e Oronzo Cilli gradito dicono a Stella Mele. Cilli, dipendente del patto territoriale e distaccato presso lo staff del sindaco, è uno dei massimi esperti del celebre scrittore Tolkien, quello per intenderci del Signore degli Anelli. Di Tolkien, oltre a essere importante collezionista, Cilli ha curato diverse pubblicazioni ricevendo prestigiosi riconoscimenti internazionali. Il gradimento di questi nomi al resto della coalizione è però tutt'altra cosa. A Cilli viene oltretutto imputato il sostegno a Marcello Lanotte, candidato con Forza Italia alle ultime regionali. Viene inoltre contestata la nomina di un altro assessore, chiaramente ascrivibile al centrodestra. Il problema vero è che Cannito ha l'arduo compito di consolidare una maggioranza attualmente sempre più traballante. Le fibrillazioni sono numerose. Lionetti, orfano di la sala, si è di fatto chiamato fuori. Grimaldi, orfano di la notte lo stesso. E forse anche Michele Maffione potrebbe essere sulla stessa posizione. Buffo è la solita scheggia impazzita. Sullo sappio Cannito può fare un affidamento molto relativo. Ed anche il neoconsigliere regionale Giuseppe Tuputi, nel corso della nostra trasmissione Spazio Città, ha espresso con chiarezza tutte le sue perplessità sulle nomine, minacciando una presa di distanza dalla maggioranza del suo consigliere Mazzarisi e del suo assessore di riferimento, che poi è sua sorella Rosa. Con queste due nomine il sindaco spera almeno di aver blindato i tre consiglieri a cui fanno riferimento. Per il resto non riesce a trovare altre sponde. Il PD conferma la sua volontà di restare all'opposizione. Cannito, nel tentativo di far quadrare i numeri, giorni fa ha incontrato anche Flavio Basile, passato dalla Lega ad essere figlio politico di Emiliano. Va ricordato che Basile, ombre verticale, dopo aver firmato la candidatura alle regionali con la Lega, la ritirò il giorno successivo dopo essersi incontrato tramite caracciolo con Emiliano. In tale occasione il presidente gli disse, riuscendo a restare serio, da oggi tu sei un mio figlio politico. Bene, anche il neo figlio di Emiliano avrebbe risposto picche a un sindaco sempre più in difficoltà. Ma come abbiamo già detto, Cannito, forte della sua debolezza, resterà in sella in mancanza di progetti alternativi. Dal resto, sulla qualità dei due nuovi assessori, gli altri, dopo aver proposto in giunta cognate, sorelle e ballerine, non possono tanto aprire bocca, né possono lamentarsi delle attribuzioni al centro-destra. Ci dovevano pensare due anni e mezzo fa, quando decisero di mettere sulla sceneggiata della coalizione civica un calderone che mescolava e mescola destra e sinistra senza vergogna. Un nuovo assessore al centro-destra diventa quindi pienamente legittimo. Se agli altri non sta bene, facessero saltare tutto, invece di lanciarsi in una guerriglia che avrà il risultato di fare solo altri danni alla città.